Ragazzi ci hanno umiliato Ci sono squadre, anzi c'è una squadra che in due partite segna 8 gol Mentre c'è un'altra squadra che in due partite ne subisce 7 Di cui 3 su calcio di rigore Benvenuti ragazzi Benvenuti alla sagra della resa La resa Eh ma sei passato Faccio lo stesso discorso ragazzi Che feci 3 anni fa quando passammo con i gol in trasferta contro la Stella Rossa Non so se vi ricordate cosa stava succedendo Che si fece 2 a 2 laggiù E si fece 1 a 1 in casa con rigore di che si Non so se vi ricordate Probabilmente molti di voi hanno una memoria corta Ma poi succese che il Manchester United ci ha preso a pallate E oggi è successa la stessa identica cosa Gli abbiamo permesso di giocare Io dissi Una settimana fa Io da questi non voglio prendere neanche un gol Ne abbiamo presi 3 3 Poi vabbè ci sono stati purtroppo Perché dico purtroppo i due nostri Che hanno comunque permesso di passare il turno Ma questa è una cosa Che dire vergognoso È fargli un complimento Io non sono mai stato d'accordo con questo regolamento del calcio Dove Conta la somma dei gol Trasferta Non trasferta Io dico che il calcio dovrebbe essere come il basket Alla meglio di 3 Alla meglio di 5 È un pochino troppo Alla meglio delle 3 Ora posso capire magari Competizioni come I mondiali europei dove è secca Ma partite così Le vince Chi ne vince 2 su 3 Non chi fa Una caterba di gol Caterba 3 In casa poi va laggiù e passeggia Perché stasera Abbiamo meritato di uscire E quasi quasi Mi dispiace di non essere uscito E mi direste no però Diseduchi i tifosi Sperdotto i tifosi giovani I giovani non vanno illusi Ai giovani va spiattellata in faccia La realtà Che il Milan è una squadra Da di cani E che prima o poi Tutto questo Grazie a Dio Avrà una fine Avrà una fine Perché io Voglio che questo E sono convinto che questo Un giorno avrà una fine E io spero Che la fine Arrivi Il 24 25 di maggio Quando ci sarà l'ultima partita Che cos'è Milan Salernitana Credo Milan Torino Non mi ricordo Milan Cagliari E Pioli Lascerà In Milan Perché La condizione per Pioli Per rimanere È vincere l'Europa League A me se non concesso Che Non so cosa sia meglio Tra non vincere l'Europa League E togliersi dalle palle Pioli O vincere l'Europa League E dovercelo sorbire un altro anno Non so quale sia Peggio delle due Però siccome Il Milan L'Europa League Così Non la vincerà mai Perché non la vincerà mai A questo punto Vediamo di uscire il prima possibile Così vi diamo i doppi impegni Vediamo di non giocarci Anche la Champions League Che siamo capaci di tutto E ciao Basta Fine Ma cioè Forse non vi rendete conto Di una cosa Che chiunque Becchiamo adesso Che sia lo Slavia Praga Il Liverpool Il Leverkusen L'Atalanta Non so se l'Atalanta La possiamo beccare oppure no Però Tutte le squadre Che ho servito prima Ve le leggo Facciamo Il giochino Ve le leggo West Ham Brighton Glasgow Rangers Rangers Atalanta Liverpool Via Real Slavia Praga Bayer Leverkusen Diciamo che tra queste otto Quella Dove ti potrebbe andare Un pochino meglio È lo Slavia Praga Con i Rangers Ma voi pensate Che questi giochino Come Ren Settimo in classifica In un campionato Orrendo come la Ligan Cioè voi Forse non capite Che queste squadre Giocano così 180 minuti Cioè come ci hanno messo Sotto loro oggi Ci giocano 180 minuti Io ragazzi Non ne posso più Io a maggio Ci ha chiamato un medico Metterò una controfigura Qualcosa Perché io A maggio così Non ci arrivo E l'ho detto a novembre Che a maggio così Non ci arrivo E continuo a ripeterlo Adesso Ragazzi Io Rigore non rigore Non me ne frega un cazzo Ma tre gol da Ren Ragazzi Tre gol da Ren Cinque a tre Sti cazzi Tre gol da Ren Non so se vi rendete conto Non so se vi rendete conto Della gravità Della cosa Perché Io Molti di voi sono nuovi Quindi purtroppo Mi tocca ripetermi Quindi purtroppo Molte persone Che mi conoscono Schipperanno questa parte E fanno anche bene C'è chi Ha la La visione corta E valuta Vede solo il risultato Tre a due Eeeh Cinque a tre Eeeh Tre a due Frosinone Eeeh C'è chi invece C'ha un po' più di sale in zucca E guarda la prestazione All'andata Cinque gol li potevi fare Con un piede solo Ma ovviamente Siamo il Milan Già per farne uno C'è da pregare C'è la C'è lo terra Signore Cazzi vari Oggi Poteva essere una partita di gestione Gli abbiamo fatto fare Quello che volevano Il risultato ragazzi E' ininfluente oggi E' ininfluente C'è ma anche se fosse finita Zero a zero Giocata così E' una vergogna Ma io non so quanti di voi Non abbiano il coraggio Di aprire un attimo Gli occhi E guardare in faccia la realtà E' una vergogna I primi dieci minuti Leao sbaglia Il primo gol Sbaglia il secondo E ci puniscono Sti cazzi Ha tirato Da 20 metri Si è tirato da 20 metri Ma cosa c'era in difesa? Il nulla C'era Kier lì Come un palo fermo E il gol Assicurato Che arriva ormai Ogni partita L'abbiamo preso Leao sbaglia Leao sbaglia Leao sbaglia Arriva il gol di Jovic Leao sbaglia Leao sbaglia Leao sbaglia Finisce il primo tempo Inizia il secondo Leao sbaglia Inizia il secondo tempo Ennesimo calcio di rigore Poi toccheremo anche quella tematica lì Leao fa gol Tra tutte le azioni Tra tutte le palle Tra tutte le volte Che veramente Ovviamente Poteva fare gol Con la punta dell'uccello Va a fare gol di rimpallo Leao sbaglia Fa gol Il Ren Su un altro calcio di rigore Allora Capitolo rigori Forse Quelli che hanno una memoria corta Che guardano il risultato Si sono Io snoccelo sempre i numeri Io mai qua È il canale dei numeri questo Siamo a Atalanta Roma Bologna Frosinone Monza E Ren Siamo al settimo Calcio di rigore contro In questo 2024 Mettiamoci Il calcio di rigore Dell'Inter nel derby Mettiamoci il calcio di rigore De Bursa Dortmund Siamo a 9 E credo sicuramente Di averne lasciato fuori qualcuno Perché 1-2 Gli ho lasciati fuori Sicuro 9 calci di rigore Contro Ragazzi È uno scherzo Cioè ma ci stiamo prendendo per il culo È una cosa seria Perché tra questi Ci sono i rigori stupidi Tipo quello di Kier Tipo quello di Monza Tipo la maggior parte E poi ci sono i rigorelli Che sinceramente io Non parlo mai di arbitri Però esprimo solamente la mia opinione Dicendo che il secondo rigore del Ren Per me Secondo me È uno scandalo Poi Ciò non giustifica assolutamente La prestazione Se non ci fosse stato quel rigore La partita E la partita fosse finita 2-2 Sare qua a raccontare le medesime cose Perché Di sicuro Non è un rigore Che Che mi fa cambiare pensiero Però una serie di rigori Sì Rigore Secondo me Dubbio È un complimento Per un tanto Poi Il rigore va calciato Ma va anche parato Perché di tutti i rigori Avuti contro Non è stato parato uno Ne è stato parato uno L'anno scorso E quarti di finale A Caraschelia Ma dei rigori ragazzi Di parare un rigore Non se ne parla Non se ne parla ragazzi Cioè È una vergogna È una vergogna assurda Carne secchi Domenica Ne ha parati due Ha parato Ripetuto Parato Ma paralo un rigore Uno Non ne devi parare Ottanta Uno Parane uno Cazzo Del resto che vogliamo dire Prestazione o scena Solita Difesa Che Chi ci metti Ci metti È quello E poi L'ennesimo L'ennesima partita Dove noi giochiamo A tornare indietro 3-4 potenziali azioni Dove eravamo addirittura In superiorità numerica Come un giocatore del Milan Incontra un uomo da saltare Torna indietro Io ragazzi Non ce la posso più fare A guardare una cosa così Che poi Il Milan Magari Rimonta Tutti i punti Dell'Inter Non succede Perché non succede Ma mettiamo In un futuro Distopico Succede Voi mi fate Rosicare troppo Cioè Mina adesso Vince tutto quello Che può vincere A me non me ne frega niente Non me ne frega niente Se io 15 volte a partita Vedo la squadra Che fa retropassaggi Su retropassaggi Una volta ci si incazzava Con Montolivo Che faceva retropassaggi Oggi Oggi tutti i retropassaggi Ragazzi Poi vedi Gli avversari di retropassaggi Veramente ne faranno due In una partita Io non so cosa dire Sempre più schifato Che becchiamo Becchiamo Speriamo di beccare Il Liverpool Speriamo di uscire E togliersi dalle palle Anche questo Così Pioli È fatta E se ne va a fanculo Alla prossima Ci vediamo domattina Con la live reaction Speriamo